Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City. In apertura siamo a Torre del Greco con la protesta di commercianti e residenti della zona vesuviana a seguito del nuovo dispositivo che regolamenta la viabilità e la sosta in zona in occasione delle gare interne della Turris. Caos circa un vesuviano, sono 39 le corse soppresse e non manca l'ira dei pendolari. Spazio poi al consueto aggiornamento sui contagi nei comuni del vesuviano. Non mancano le iniziative per incentivare la campagna vaccinale. Ennesimo appello del governatore della campagna Vincenzo De Luca a pochi giorni dall'avvio dell'anno scolastico. In chiusura torniamo a Torre del Greco per occuparci della questione del trasbordo dei rifiuti. Sono giorni di protesta per i residenti di via Sant'Elena. Ne abbiamo parlato con il consigliere del Movimento 5 Stelle, Vincenzo Salerno. Questo ed altro, guardiamo i servizi. Sul piede di guerra i residenti e i commercianti del quartiere vesuviano. Alla base del malcontento, l'ordinanza del comune che blocca la viabilità e non permette la sosta di autoveicoli per otto ore, in occasione delle gare interne della Turris, che si terranno presso lo stadio Liguri. Ai microfoni di TV City, il presidente del comitato di quartiere, Giuseppe De Mino. Il problema che si sta riguardando questo quartiere è la domenica quando gioca la squadra della città, la Turris, e praticamente i cittadini e i commercianti si lamentano del dispositivo che dura otto ore. Cioè è impossibile emanare un dispositivo che dura otto ore bloccando non solo un intero quartiere, ma anche i commercianti che non riescono più a vendere i loro prodotti. Perché il dispositivo avviene dalle 14.30, quando gioca alle ore 17.30. Poi dipende anche dagli orari. Noi vi chiediamo un incontro con il comandante di Visone per trovare una giusta soluzione. La nostra proposta è di, invece di otto ore, magari di portarla a quattro ore, questo dispositivo. Questo è un sequestro di persone, perché uno è torno dal mare, trova tutto bloccato. Con quella pioggia che ha fatto domenica non potevo tornare a casa, perché di qua non mi facevano passare e di giù non mi facevano passare. Sono dovuto stare in macchina, poi mi sono portato la macchina in un parcheggio e sono tornato a casa. Queste persone, non so chi ha la competenza di fare queste cose a Napoli si dice proprio assurde. Siamo staggi in casa nostra. Questo è l'allarme lanciato dai cittadini, che chiedono soluzioni immediate all'amministrazione comunale. Disaggi analoghi anche per i commercianti. Da tutti, la richiesta di una riduzione dell'orario del dispositivo. In poche parole, è un grande disagio il non poter parcheggiare tante ore prima. Punto. Noi già siamo costretti a pagare una certa sifra durante la settimana per le strisce blu. Quindi è un dispendio economico tutta la settimana. In più, ogni 15 giorni, affrontare questa problematica delle partite con la strada chiusa di quattro ore prima è un grandissimo disagio. Una perdita di tempo. Diciamo che è un dispendio economico perché noi la macchina dobbiamo andarla a mettere in un parcheggio a pagamento durante le partite della Turis. Soprattutto, secondo me, c'è bisogno di più organizzazione. Siamo qui con un commerciante della zona. Lei quali problemi ha riscontrato? Effettivamente bloccare il passaggio delle auto e dei pedoni diciamo quattro ore prima della partita effettivamente ci porta dei danni. Sarebbe auspicabile bloccarlo un'ora prima in modo da alleggerire un po' questa situazione. Parlo non solo a nome mio, ma a nome di tutti i commercianti della zona e anche delle persone che abitano. La cosa non creerebbe problemi né alla viabilità e né anche alla sicurezza per gli spettatori che vanno a vedere la partita. Credo che sia la cosa più giusta. Se la potete valutare. Già c'è un po' di crisi. Poi ci chiudono le strade. Per una partita, insomma, non è giusto che paghiamo noi le pene. Per l'amor di Dio dobbiamo lavorare tutto. Anche il calcio è un lavoro. Però chiudere completamente una strada come io che vendo pane, c'è la pasticceria, c'è l'ientile, insomma, ci sono i residenti, io abito anche qua, quindi è impossibile proprio circolare quella mezzogiornata della domenica, insomma. E si potrebbe fare diversamente, io penso. Voglio fare un appello all'assessore della viabilità e comunque se può risolvere qualcosina perché non si può andare avanti in questa situazione perché comunque è un danno per tutti noi commercianti della zona. Ma pure per i residenti perché comunque chiudere una strada quattro ore prima, riaprirla quattro ore dopo è comunque un danno. 39 corse cancellate nell'arco dell'intera giornata. Non parte nel migliore dei modi il nuovo corso della circunvesuviana iniziato ieri già con qualche difficoltà. Il nuovo programma di esercizio prevede tra l'altro la chiusura di due stazioni via Monaci e via Viuli e il depotenziamento di altre quattro fermate cavalli di bronzo, miglio d'oro, via del monte e villa delle ginestre. Lungo la tratta Napoli-Torre Annunziata Alla base del provvedimento la carenza di personale come spiegato dalla stessa Eav Non c'è un numero congruo di dipendenti disposti a sostenere ore di straordinario per tali ragioni oggi non sono garantite 11 corse tra Napoli e Baiano 10 tra Napoli e Sorrento 10 tra Napoli e Torre del Greco via centrodirezionale 6 sulla linea Napoli-Sarno e 2 tra Napoli e Poggio Marino Il nuovo orario di esercizio entrato in vigore ieri sulle linee vesuviane gestite da Eav mostra subito i suoi limiti dopo appena due giorni si è tornati a decine di corse soppresse viaggiatori arrabbiati e la delusione di trovarsi un'altra volta in un incubo è la voce di Enzo Ciniglio portavoce di un gruppo Facebook dipendorale della circunvesuviana noi viaggiatori chiediamo di avere la certezza di trovare un treno in stazione di poter recarci al lavoro a scuola a fare una gita senza ansia iniziare la giornata senza la fatica di barcamenarsi tra soppressioni e ritardi chiediamo alle AFA di programmare le corse sul numero effettivo di dipendenti e la disponibilità del materiale rotabile senza azzardi né alchimie non ne possiamo più paghiamo un abbonamento per avere un servizio non numeri dell'illusionista i treni li vogliamo trovare in stazione non solo su carta conclude Ciniglio Contagi stabili nel comune Corallino il comune editore del Greco nelle ultime 24 ore registra 21 nuovi casi di positività numero esattamente uguale per quanto riguarda le nuove guarigioni rimane invariato dunque il bilancio dei contagi con 144 attualmente positivi di cui 9 ospedalizzati dal 9 al 30 settembre il comune editore del Greco ha organizzato presso il punto di vaccinazione territoriale Santissima Trinità e Largo Annunciazione l'iniziativa Open Day Night vaccinale che consentirà la somministrazione continua di vaccini anche senza l'iscrizione in piattaforma dalle ore 8 alle ore 23 a supporto dell'iniziativa e a fine di incentivare la partecipazione giovanile piena l'adesione della SS Tourist Calcio che metterà a disposizione 20 biglietti per ogni singola competizione in occasione di 4 partite interne di campionato a Liguri ne beneficeranno attraverso estrazione a sortteggio i ragazzi della fascia d'età 12-17 anni che avranno aderito all'iniziativa anche il comune editore annunziata lavora per accelerare la campagna vaccinale tramite un appuntamento fissato per venerdì 10 settembre dalle ore 19 alle ore 24 in Villa Comunale sarà necessario esibire esclusivamente un documento di identità e la tessera sanitaria La campagna è la prima regione d'Italia per vaccinazioni del personale scolastico docente e non docente adesso dobbiamo fare uno sforzo ulteriore per vaccinare gli studenti ennesimo appello del governatore della campagna Vincenzo De Luca ad una settimana dall'avvio dell'anno scolastico Credo con un grande senso di responsabilità abbiamo fatto una riunione importante qualche giorno fa con i dirigenti scolastici abbiamo un elemento di grande tranquillità perché la campagna è la regione più avanzata d'Italia per la vaccinazione del personale scolastico docente e non docente ma dobbiamo fare uno sforzo ulteriore per vaccinare gli studenti Come si fa a non capire che vaccinarsi tutti serve a riprenderci la vita e a tenere aperta l'economia del nostro paese prosegue De Luca per evitare di dover richiudere fra due mesi bar, ristoranti, fabbriche attività commerciali Abbiamo ascoltato ieri l'appello appassionato del Presidente della Repubblica ma come si fa a non capire che vaccinarsi tutti serve a riprenderci la vita come diciamo noi e a tenere aperta l'economia del nostro paese per evitare di dover chiudere fra due mesi bar, ristoranti, fabbriche, attività commerciali Il Governatore si appella al senso di responsabilità di tutti soprattutto per far sì che la scuola prosegua in presenza Se immunizziamo anche la popolazione studentesca conclude il Governatore allora davvero potremo avere un anno scolastico in grande serenità Chiedo anche a voi di aiutarci in una campagna come dire di stimolo alla vaccinazione perché se vacciniamo anche la popolazione studentesca allora davvero potremo avere un anno scolastico in grande serenità Cominciamo a fine mese Cominciamo in presenza ma per continuare la scuola in presenza dobbiamo essere responsabili Disaggi per i residenti di via Sant'Elena a causa del trasbordo dei rifiuti che cosa sta succedendo? Sono, se non erro, sette giorni con oggi che i cittadini di via Sant'Elena ormai presidiano la strada perché stanchi ed esausti di mesi in cui avvengono queste pratiche in maniera molesta con conseguenze alla solubilità dell'aria alla tranquillità notturna e alle condizioni igieniche della strada In realtà è una problematica che un anno fa interessava gli abitanti della zona del parcheggio Palatucci che non ha mai abbandonato via Le Sant'Elena che ha interessato via Cupamonti che è una criticità cittadina diffusa su tutto il territorio da una palla avvelenata che rimbalza di quartiere in quartiere Come andrebbe gestito questo trasbordo? Il trasbordo è una tecnica che avviene in tutta Italia è permessa nel nostro caso specifico dalla legge regionale e che lo consente sul suolo pubblico Il punto è quello che succede a Torre del Greco perché a prescindere dal fatto che la legge è molto puntuale prevede che venga fatta in zona a bassa densità abitativa per un periodo limitato con caratteri di eccezionalità e per esigenza tecnica sulla densità abitativa è evidente che i quartieri che ho prima citato sono altamente abitati ma il trasbordo nella nostra città diventa una criticità perché è il frutto di una serie di scelte sbagliate e di errori nella gestione Se un servizio che dovrebbe iniziare alle 4.20 del mattino inizia già alle 22 quindi ancora in pieno orario di conferimento ed è diluito per tutta la notte se gli automezzi impiegati non sono quelli previsti dal bando se si lavora con un sottorganico in termini di unità e magari anche con sovrapposizione di turno è chiaro che già il sistema è prossimo al collasso per cui il trasbordo è l'unico modo per non farlo collassare anziché durare per un periodo limitato dura per ore e ore a discapito dei cittadini del posto e soprattutto viene addirittura programmato perché senza di esso si andrebbe ancora più in difficoltà nonostante le condizioni igieniche cittadine sono abbastanza evidenti al limite della decenza Responsabilità della ditta che gestisce ma anche responsabilità dell'amministrazione comunale? Le responsabilità sono diffuse ne sono mesi che accendiamo i fari sul trasbordo proprio perché questa pratica diventa una foto dell'intero sistema il trasbordo secondo la legge deve essere fatto col presidio comunale invece da noi avviene senza alcun presidio quindi anche le condizioni in cui viene svolto non sono controllate dall'amministrazione quindi è chiaro che quando poi ci sono tutte queste mancanze che si accavallano poi la situazione degenera è tutta a discapito dei cittadini che vivono nelle zone dove si pratica tutto ciò Quindi anche in questo caso la gestione dei rifiuti attore del greco lascia desiderare? Lascia desiderare anche un eufemismo in alcuni momenti è estremamente fallimentare ma sono questi mesi di esperienza quotidiana che lo attestano Con questa notizia si chiude anche oggi questa edizione del nostro TG vi ricordo che per info e segnalazioni potete scriverci all'email a redazione chiocciolatvcity.it o chiamare al numero 340 6561 484 con questo è veramente tutto arrivederci a domani Grazie a tutti